Un locale è stato chiuso a Gorizia perché sono state somministrate bevande alcoliche a minorenni. Il titolare dell'esercizio commerciale si è visto arrivare la notifica per motivi di moralità pubblica e buon costume. Il locale in questione ha ceduto alcolici a tre minorenni per la precisione e rimarrà chiuso per sette giorni. Stanotte un uomo ha minacciato una guardia giurata e insultato il personale dell'ospedale. È successo a Cattinara, sul posto è giunta una volante, il responsabile è stato identificato e denunciato. E sempre a Cattinara ieri sera un altro uomo, dal fare molesto, disturbava i presenti al pronto soccorso fino ad arrivare a urinare in pubblico. Anche in questo caso è tempestivamente giunta una volante che ha provveduto a senzionare l'uomo anche per ubriachezza. Ieri pomeriggio una persona ha rinvenuto una bomba a mano austriaca. È successo a Draga, Sant'Elia, nel comune di San Dorligo della Valle. L'uomo si trovava vicino alla propria abitazione. L'ordigno bellico è stato preso in consegna degli artificieri della Polizia di Stato.